La Bobo Summer Cup, il famoso torneo di beneficenza di foot volley organizzato da Bobovieri, approda sulla spiaggia di Riccione e fa divertire più di 7.000 persone, raccolti nelle due giornate di gare più di 30.000 euro destinati alla fondazione Ileollus per contribuire all'acquisto di un simulatore neurochirurgico per l'ospedale Bambin Gesù di Roma. Sia nella tappa precedente di Jesolo che a quella di Riccione, la Bobo Summer Cup ha venduto tutti i biglietti disponibili per assistere alla gara di foot volley e ha visto un importante flusso di persone partecipare al villaggio sportivo allestito proprio al di fuori del rettangolo di gioco. Sicuramente in queste occasioni è sempre bene presenziare perché comunque questo è un progetto veramente importante quindi è giusto aiutare chi è meno fortunato di noi sempre. Tra l'altro sia Jesolo che a Riccione tutti sold out, adesso bisogna replicare anche San Benedetto del Tronto. Esatto, io sarò presente sabato lì a quella tappa lì. Tanti gli ospiti famosi che hanno aderito all'iniziativa, dall'ex campione del mondo Gianluca Zambrotta allo storico campione dell'Inter Recoba, passando per il comico Andrea Pucci, l'opinionista Leila Dani, Davide Bombardini, Gigi Di Biagio, la giornalista influencer Ludovica Pagani e il cantante vittorioso d'amici Irama. Tutti gli ospiti si sono esibiti battagliando a foot volley sulla spiaggia 162-163 di Riccione per far divertire i presenti ed aiutare concretamente l'associazione di beneficenza. È stata una bella esperienza, due giorni fantastici, sempre pieno, siamo contenti perché come gli altri anni stiamo facendo del bene e quando fai del bene devi essere contento.